Drollite azienda da dieci anni opera nell'ambito delle installazioni audiovisive principalmente per gli eventi, per i trade show e così via. Alla fine utilizziamo tecnologie ma tentiamo di emozionare il più possibile, quindi contenuti audiovisivi altamente emozionali. Zinso Immersi invece nasce tre anni fa ed è una start-up che si occupa di prendere le stesse tecnologie, e crearne anche di nuove e portarle in ambientazioni, in settori diversi, quindi dal wellness al ristorazione, al retail, al museale e così via, però con forte rigore scientifico, quindi tentiamo di consegnare emozioni o tentare di consegnare delle installazioni che provochino delle emozioni specifiche, quindi l'applicazione della neuroscienza per noi è essenziale in questo. Insomma è stato chiesto di parlare un po' del nostro approccio e dal momento che effettivamente riconosciamo che noi che le neuroscienze unite all'arte, unite alla tecnologia, sono comunque un argomento piuttosto nuovo, era interessante, come è stato interessante per me approcciarlo e conoscerlo, che fosse interessata anche per un pubblico e quindi abbiamo un po' portato il pubblico a conoscere qual è il nostro approccio in merito alle installazioni che creiamo. Siamo arrivati ai neuroscienze perché due anni fa, forse ormai tre, abbiamo vinto un premio per cui avevamo una serie di mentor, un mentor importante nell'ambito del marketing per un grosso brand ci ha detto se volete confrontarvi col mondo del retail sappiate che i brand più grandi stanno iniziando ad avere dei team interni di neuroscienziati per capire cosa fa bene, cosa non fa bene, cosa funziona e cosa no nel comportamento d'acquisto in generale. E quindi ha detto dovreste anche voi iniziare a guardarci dentro, era settembre 2016, da lì questa persona aveva ragione, o almeno sicuramente pian piano addentrandoci ci siamo resi conto di quanto influenzi tutto quello che facciamo, a partire da fare un contenuto audiovisivo, già solo il ritmo delle cose che facciamo, i colori, le forme, influenzano totalmente il modo in cui le persone reagiscono alle cose. E quindi se è vero che i nostri potenziali clienti utilizzano già questo tipo di linguaggio, è corretto che anche noi come minimo impariamo a conoscerlo e poi se possiamo controproporre qualcosa di innovativo rispetto anche alle tecnologie che adoperiamo, riusciamo a mantenere il livello di consulenza che... Il nostro obiettivo è quello di passare dal creare delle installazioni audiovisive per fini a se stesse o comunque che siano semplicemente belle, portare le persone invece a vivere qualcosa che emozionalmente le portino a ricordare o a essere ispirate o a essere energizzate secondo quale sia l'obiettivo. Per fare questo non si tratta semplicemente di fare cose belle, ma si tratta di capire come siamo fatti come persone e quindi capire come funziona il nostro cervello e quello degli altri e in base a questo riuscire ad operare in maniera corretta per raggiungere quel tipo di risultato. Quindi lo shift tra creare risultato dal fare le installazioni audiovisive belle e innovative come facevamo anche noi fino a un paio di anni fa a creare installazioni che effettivamente funzionino per le persone in termini di quello che vivono come stati emotivi. Effettivamente sradica molto dei concetti su cui siamo cresciuti e da cui abbiamo imparato anche comunemente il fatto di creare dei video, qui stiamo rivedendo proprio il modo in cui si creano i video. Quindi diciamo che gli attriti sono costruttivi nel senso che si impara e si dibatte molto per capire effettivamente quanto ad operare queste cose e quanto senso hanno. Per tentare di capirci di più anche noi abbiamo proprio creato un paio di esperimenti di neuroscienze fatti proprio fatti bene per riscontrare dei risultati pazzeschi per cui a quel punto un po' tutto il team ha dovuto ricredersi e dire effettivamente creando delle installazioni audiovisive in questo modo abbiamo riscontrato che le persone hanno vissuto questo tipo di emozione. Quindi parliamo proprio anche di eletroencefalogramma e cosa già, cioè sicurezza totale di cosa è successo in quel caso specifico. Non significa che abbiamo la risposta a tutto assolutamente, significa che sicuramente è un mondo da iniziare ad esplorare, molto pionieristico, difficile per questo e non vogliamo essere soli quindi per questo che divulghiamo in modo che chiunque si lancia la stessa strada in modo anche da confrontarci tutti assieme. Il pubblico è fantastico, si dice sempre, è vero, però è un pubblico veramente attivo nonostante gli argomenti difficili, chi ha fatto più difficoltà l'ha detto ma comunque è stato entusiasta e c'è stato un bellissimo confronto poco dopo anche singolarmente tra persone e persone, quindi ho detto prima anche ai miei colleghi molto singolare come tipo di audience, molto felice. Sì, io tra l'altro non assistevo diciamo a un intervento da un po', quindi ho visto un intervento aggiornato perché la cosa bella è che Mick li aggiorna tipo ogni settimana, quindi se venite ad assistere non sarà mai la stessa cosa, anzi. E direi molto piacevole la reazione, tanti prendevano appunti, quindi ero molto felice di vedere che c'è interesse. E poi quando Mick giustamente ha detto ci sono anche dei colleghi a cui potete chiedere è stato bello perché comunque uno ce l'avevo di fianco e quindi mi ha subito accalappiato. Quindi è stato interessante perché al di là del lavoro che facciamo è molto bello vedere quando c'è un interesse su temi nuovi e portare magari un po' di aria nuova anche in ambienti che da un po' tentano di rinnovarsi. Per noi è molto positivo, ci dà molta energia per lavorare perché sono sempre installazioni molto difficili da fare, assolutamente non semplici, anche se Mick oggi ve le ha mostrate in modo molto semplice e quindi serve molta energia ma da parte del tuo cliente. Quindi se da un pubblico così abbiamo ricevuto energia, potenziali futuri clienti, quindi noi eravamo molto contenti anche del feedback dalle sedie, dalla platea.